Mi chiamo Alessandra Brugnoni, sono una psicoterapeuta all'interno di Studi Cognitivi e referente del Centro per Disturbi di Personalità di Studi Cognitivi qui a Modena. Questo è il nostro quinto webinar dove oggi abbiamo con noi il dottor Gabriele Caselli esperto anche del titolo che affronteremo oggi, dell'argomento che è appunto quello della ruminazione e questo appunto come iniziavo è un webinar che è il quinto webinar che il Centro per Disturbi della Personalità di Modena organizza mensilmente e noi siamo un centro che è nato circa due anni fa proprio all'interno di Studi Cognitivi, per chi non lo sa Studi Cognitivi è una scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale riconosciuta dal MIUR che ha diverse sedi in tutta Italia e all'interno di ogni sede ci sono dei centri clinici e da appunto circa due anni all'interno di questi centri clinici ci sono strutturate delle aree di specializzazione dove seguiamo quelli che sono i trattamenti più riconosciuti, più validati scientificamente, in particolare in quello di Modena c'è proprio un percorso intensivo per il trattamento e la cura dei disturbi della personalità. È un percorso intensivo che va dal lunedì al venerdì in cui vengono sviluppate delle attività di gruppo, ci sono dei momenti individuali e un gruppo per i familiari e proprio per promuovere, per mettere in luce vari aspetti di quello che è un po' le difficoltà emotive che pazienti che hanno ricevuto questa diagnosi, che hanno questa problematica, affrontiamo mensilmente un tema, un aspetto, una dimensione, una caratteristica o un processo appunto cognitivo specifico in cui far capire qual è la portata, qual è l'incidenza proprio dei vari dimensioni nel aiutare o meno la gestione appunto della regolazione emotiva. Quindi quello che io per il momento mi fermo qui così abbiamo un modo di ascoltare il dottor Cadelli e poi ci concediamo diciamo nella parte finale cinque minuti, dieci minuti insomma di confronto, di riflessioni, di domande, di curiosità che avete in un secondo tempo così abbiamo un modo di sentire, di ascoltare bene il dottore. Grazie a tutti per essere presenti e buon ascolto. Grazie a voi per avermi invitato, ho addocchiato negli ultimi settimane anche gli interessanti webinar che mi hanno preceduto, devo dire che avete fatto un ottimo lavoro di selezione, identificazione e isolamento dei diversi processi che caratterizzano i disturbi di personalità, quindi mi sembra una serie di webinar molto interessanti per cercare di comprendere bene quali siano i tipi di difficoltà che questo genere di pazienti incontra al di là dei vari titoli ed etichette che possono essere assegnate al mondo della personalità, che sono sia utili in molti casi, talvolta anche magari fuorvianti o eccessivamente generalizzate. Per questo il taglio un po' più processualista ci aiuta a comprendere come poi si dipanino le diverse caratteristiche che alimentano e sostengono una sofferenza che nel caso dei disturbi di personalità può avere un impatto anche molto esteso in diverse aree di vita e molto esteso anche all'interno di una dimensione temporale. Il mio compito oggi è parlarvi di un'area che è abbastanza di mia competenza, nel senso che è l'area che da un punto di vista scientifico mi ha interessato negli ultimi 15 anni, cercando di applicarla e di mostrare quello che anche la ricerca scientifica più recente ci comincia a evidenziare su quanto questi aspetti che sono nati in particolar modo nello studio dell'area dei disturbi d'ansia e della depressione possono avere un impatto significativo, se non ancora più significativo, nel mondo dei disturbi della personalità. Ora io provo a condividere lo schermo, vediamo se ci riesco. Ditemi, dimmi Alessandra se si vede la presentazione. Sì, perfetto. Allora, luminazione e cascate emotive. Cascate emotive è un termine che vedremo presto, assume anche oggi, pur essendo metaforico da un certo punto di vista, un significato anche scientifico perché appartiene a un modello che cerca di spiegare cosa succede in alcuni pazienti nel vivere il rapporto con un'esperienza soggettiva così comune, se vogliamo, che è quella delle emozioni. Emozioni che possono essere spiacevoli, in alcuni casi, ma che possono anche essere piacevoli perché il problema si manifesta, sostanzialmente si può manifestare in entrambi i lati della dimensione. Tutti noi proviamo emozioni, provare emozioni è un'esperienza importante perché ci dà dei segnali che ci aiutano a comprendere in qualche modo quali sono i nostri desideri, le nostre propensioni, le nostre preferenze, cosa la nostra storia ci ha trasmesso in termini di quale sarebbe il miglior impulso ad agire in una certa situazione. Ma diciamo che normalmente siamo abbastanza in grado di utilizzare le nostre emozioni come dei segnali informativi e anche utilizzare una dotte che la mente umana possiede, che è quella di muoversi indipendentemente anche dalle proprie emozioni, cioè di riconoscere più o meno rapidamente quando uno stato emotivo veicola un'azione utile e necessaria anche nel presente o quando invece è opportuno relazionarsi con la nostra emozione in qualche modo modulandola senza diventarne schiavi. Questo è quello che dovrebbe succedere e quello anche che da un certo punto di vista noi dovremmo imparare a fare nel corso della nostra storia. Per questo tutto il processo di comprensione e di sviluppo di un buon rapporto con le proprie emozioni e con i propri stati interni più in generale è uno degli obiettivi del percorso e del processo evolutivo degli esseri umani. A volte ciò non avviene. Quando non avviene si parla di, in alcuni casi, di disregolazione emotiva nel senso più ampio del termine, perché è chiaro che quando parlo di disregolazione emotiva a tutti vengono in mente pazienti principalmente dell'area borderline di personalità, ma in un'accezione, se vogliamo, un po' più ampia noi potremmo considerare che il tema della disregolazione emotiva può avere diverse manifestazioni, può manifestarsi esternamente in diversi modi, ma può essere allo stesso tempo estesa alla maggior parte dei disturbi di personalità e probabilmente non solo a questi. Quando parliamo di disregolazione emotiva, per darle una definizione che possa essere il più operativa possibile e quindi anche comprensibile per la maggior parte delle persone, noi parliamo di sostanzialmente tre aspetti. Primo, una tendenza a avere alta sensibilità a degli stimoli emotigeni, una sorta di pelle molto morbida, di sentirsi un po' una spugna, di essere toccati molto facilmente da stimoli emotigeni anche di bassa intensità, stimoli che la maggior parte di noi è abbastanza abituata ad ignorare, per cui un semplice sorriso o una semplice espressione di serietà, il compagno o la compagna che entra a casa la sera ed è un po' scuro in volto, ad alcune persone potrebbe essere un segnale di minimo rilievo e in qualche modo essere anche tutto sommato ignorato, a meno che non si trasformi in un segnale più evidente, ma alcune persone hanno immediatamente, sono immediatamente toccate anche da una espressione poco lontana dalla semplice neutralità dell'espressione facciale. E questo è un primo punto. Secondo punto, la tendenza a reagire agli stimoli che generano, che suscitano emozioni, con delle reazioni anche interne, anche di natura fisiologica, particolarmente intense, quindi più intense di quello che normalmente, in qualche modo si considererebbe appropriato allo stimolo che ha suscitato l'emozione. Quindi molta più attivazione in termini di paura, molta più attivazione, quindi molto più allarme, e molto più attivazione anche in termini di rabbia. Terzo aspetto, un lento ritorno alla baseline dell'attivazione emotiva. Questo significa che la naturale processo di regolazione delle nostre emozioni, perché noi sappiamo che se le emozioni le lasciamo in pace e non succede più nulla nel mondo esterno che le sollecita ulteriormente, tendono naturalmente ad andare in una regolazione, quindi a trasformarsi in un'onda che poi ci attraversa e passa. In alcuni casi il movimento di quest'onda, il riabbassamento di quest'onda, viene molto più lentamente, richiede molto più tempo. Ovviamente questi tre aspetti mescolati assieme generano poi la tendenza ad avere anche diversi possibili picchi nel corso del tempo. Allora, noi sappiamo che quando parliamo di disregolazione emotiva, noi parliamo sostanzialmente di due grossi mondi che si intrecciano per produrre questo risultato. Da un lato, quello che viene definito, e qui faccio un grosso riferimento al modello biopsicosociale di Marsha Linean, che è stata la ricercatrice, che più di ogni altro ha posto al centro questo meccanismo nel tentativo di comprendere, anche di sviluppare un percorso di trattamento efficace per la disregolazione emotiva e in particolare per il disturbo borderline di personalità. Dicevo, due mondi. Da un lato esiste un pezzo di vulnerabilità biologica, almeno secondo la sua concezione. Poi, teniamo presente che i dati di ricerca ci dicono, sostengono in modo abbastanza solido alcuni di queste teorizzazioni e in modo meno solido a altre, però diciamo che, senza entrare troppo nei dettagli, esiste un comparto che ha a che fare con la vulnerabilità biologica, cioè c'è un aspetto di temperamento che ci rende più sensibili, più vulnerabili ad avere delle risposte emotive più frequenti, più intense e che si regolano più lentamente, e poi c'è un processo di apprendimento che nasce dalla nostra interazione con l'ambiente. Cioè, il modo in cui noi cresciamo in un ambiente ci permette o meno di sviluppare delle capacità e delle strategie efficaci nel ridurre la nostra vulnerabilità biologica, nel governare la nostra vulnerabilità biologica, nell'esserne padroni, fino anche a non sviluppare un problema di disregolazione emotiva quant'anche esista un tema di vulnerabilità biologica alla base. Quindi il rapporto con l'ambiente, il processo evolutivo, ha un ruolo centrale. E ha un ruolo centrale anche in senso negativo, cioè quando noi incontriamo quello che Marshall Inean definisce un ambiente invalidante, lo definiremo poi meglio un po' più avanti, cioè un ambiente che non ci trasmette, detta in modo molto sintetico, una capacità nel tempo di riconoscere e gestire in modo appropriato le nostre emozioni, noi possiamo sviluppare delle strategie di regolazione o di risposta alle nostre emozioni negative che anziché essere efficaci lo sono solo apparentemente, per breve tempo, non lo sono affatto, determinando anziché una riduzione della vulnerabilità biologica un suo incremento nel corso del tempo. E spesso questi apprendimenti avvengono a un'età ovviamente infantile o al più adolescenziale, cioè nel momento in cui noi non abbiamo la capacità di consapevolezza di renderci conto che stiamo apprendendo queste cose. Quindi spesso questi apprendimenti rimangono impliciti nel corso della nostra storia e non ne siamo pienamente consapevoli fino a quando non rischiamo di pagarne un costo o magari iniziamo un percorso di terapia. Tra queste strategie, dividendole veramente con l'accetta, possiamo trovare strategie di ipercontrollo, cioè tutta una serie di comportamenti e di strategie di cui non parlerò nel dettaglio oggi perché poi so che ne avete anche parlato precedentemente, che hanno a che fare con tutta quella serie di comportamenti che mirano a evitare o ridurre o prevenire l'esperienza emotiva soggettiva. Quindi io agisco nella realtà, mi comporto in modo da non sbagliare mai, fare la brava bimba, accontentare le aspettative degli altri, ottenere dei buoni risultati a scuola, assecondare i desideri delle persone che mi sono intorno, seguire la norma, seguire il processo normativo su come dovrei essere, che nel breve termine sembra tutelarmi dall'esposizione alla disregolazione emotiva, ma che poi ha una serie di conseguenze delle terie. Oppure, non metto in atto o nel momento in cui non funzionano delle strategie di prevenzione, metto in atto delle strategie disregolate dal punto di vista comportamentale, quindi dei comportamenti drammatici, a volte impulsivi, anche se qui vedete un punto di domanda perché il tema dell'impulsività è un tema che sarebbe anch'esso abbastanza delicato perché spesso sono anche l'impulsività una funzione molto strategica, volta a cercare di tamponare, ridurre, sopprimere, nel minor tempo possibile, uscire da un circuito di malessere soggettivo dal punto di vista emotivo, spesso con delle altre conseguenze secondarie nel medio e lungo termine, ancora più problematiche. Quindi l'ambiente invalidante, la vulnerabilità biologica, agiscono per, qui abbiamo una definizione più chiara di ambiente invalidante, l'ambiente invalidante è quell'ambiente in cui l'espressione dei propri stati interni, delle proprie emozioni, non è riconosciuta, non è validata, ma spesso è punita e banalizzata. Esempi molto semplici, non hai da aver paura, non c'è niente da aver paura, smettila di piangere, non è una cosa su cui stare a fregnare, solo i bambini deboli si mettono a piangere per queste cose, cioè un mancato riconoscimento, una forte normatizzazione, in alcuni casi punizione, rispetto all'espressione di stati emotivi che ovviamente pone la persona di fronte a un problema. Il problema è che ci faccio degli stati emotivi, cioè questi arrivano, sono sbagliati, o sono problematici, o sono pericolosi, o se ci sono significa che io sono una persona che non funziona. Se li esprimo, mi becco delle bastonate o delle invalidazioni, quindi io comincio ad avere un problema nella relazione con quello che mi succede dentro. E cerco di arrabbattarmi come posso, cioè cerco di gestire le mie risorse mentali in modo tale da poter governare, comprendere, gestire, sopprimere, soffocare questi stati emotivi. È molto sintetica come riflessione, però per darvi un'idea di come arriviamo al punto, perché tutto questo preambolo porta a una questione. La questione è, abbiamo due tipi di espressioni, ipercontrollo e impulsività, ma che cos'è che sostiene questo vulcano o che potrebbe contribuire a sostenere, volendo ragionare ancora in modo ipotetico e non per verità assolute, questo vulcano emotivo che mi fa così paura per cui o devo fare di tutto per prevenirlo con l'ipercontrollo o devo in qualche modo tamponarlo, uscirne immediatamente attraverso comportamenti impulsivi che magari sono anche dannosi e lo so anche, pensiamo per esempio l'autolesionismo, però meglio è quello che stare qui dentro. Allora, noi sappiamo oggi che una modalità di gestione, di risposta e regolazione delle proprie attività mentali a fronte della nostra attivazione emotiva o dei stimoli che possono essere emotivi può avere un impatto nell'implementazione della disregolazione emotiva e questo stile e questa modalità passa sotto il nome sintetico di Rimuginio, cioè quanto tempo e la quantità di tempo che trascorro a rimuginare sui miei stati interni o sulle cose negative che li evocano nel futuro o sulla mia persona tendono ad incrementare, ad amplificare il vulcano emotivo. Sul Rimuginio ne ho parlato in diverse situazioni, ci abbiamo scritto un libro e ne abbiamo prodotto un piccolo podcast che chi è interessato può andare ad ascoltarsi. Una definizione sintetica che raccrupa tutte le forme di Rimuginio è quella di definirlo come uno stile di pensiero perseverante, ripetitivo, su contenuti negativi. Dal nostro punto di vista, ma non lo diciamo solo noi, cioè io e gli altri autori di questo libro, lo dice un fioffiore di ricerche recenti, la tendenza a Rimuginare può essere un elemento di discriminazione tra ciò che è una naturale sofferenza di tipo emotivo e una sofferenza possiamo definire disregolata. È chiaro che io tendo a reagire alle emozioni Rimuginandoci sopra, questo favorisce la disregolazione emotiva, lo stato intenso emotivo di sofferenza mi porta a spaventarmi ancora di più perché nessuno di noi sta poi bene in uno stato estremamente intenso dal punto di vista emotivo e quindi solidifica l'idea che io debba in qualche modo evitare l'emozione perché non c'è un'emozione modulata o non c'è emozione o c'è un'emozione intensa e fomentata a dismisura dal processo ruminativo. E quindi o la prevengo con l'ipercontrollo e quindi però perdo anche il vissuto emotivo e anche l'autenticità che mi fornisce il rapportarmi con i miei stati emotivi oppure cerco di tamponarlo subito con comportamenti problematici per uscire da l'unica altra alternativa che è un circuito ricorsivo fatto di emozioni negative e di rimuginio. In particolare nell'area della disregolazione emotiva due forme di rimuginio hanno assunto un ruolo dominante nella letteratura scientifica la ruminazione più di tipo depressivo e quella più di tipo rabbioso. Quando parliamo di ruminazione depressiva noi intendiamo rimanere continuamente a pensare al proprio malessere ai problemi alle loro cause e alle loro conseguenze a delle diverse componenti una componente autocritica quindi di attacco a se stesso di autopunizione una componente di analisi cioè un tentativo di rispondere alla domanda perché mi sta capitando questo diciamo uno sforzo di comprensione analitica del proprio stato interno un ragionamento contoffrattuale che cosa avrei dovuto o potuto fare di diverso per non stare così oggi e vedete che da un certo punto di vista questa forma di ruminazione è un tentativo di reagire a uno stato interno allora io abbiamo detto ho vulnerabilità biologica quindi ce li ho più frequentemente più facilmente più intensamente di mio l'ambiente che dovrebbe in teoria aiutarmi a capire questa cosa che sono particolarmente sensibile ma che va bene così che non c'è nessun problema a essere a manifestare emozioni che comunque ci posso fare qualcosa mi bastona più o meno direttamente quando io esprimo le emozioni a quel punto io che faccio cerco di comprendere i miei stati emotivi di criticarmi e di punirmi io di cercare di ragionare su come potevo evitare di stare così cioè inizio a farmi un problema del come sto e anziché esprimere o agli altri o cercare conforto rischiando di apparire come ho imparato che vengono etichettate le persone che esprimono le emozioni cioè debole fragile stupido scemo e quant'altro me lo tengo per me cioè sviluppo un tentativo di autoregolazione focalizzato sulle emozioni del tutto interno facendo leva sulle mie facoltà cognitive che posso tenere per me la ruminazione il problema è che anche se io ho idea di provare a fare qualcosa per gestire i miei stati interni l'effetto diventa problematico nel tempo perché perché la ruminazione depressiva tende ad incrementare il processo disorgolativo qui sono tutta una serie di studi che nel libro sintetizziamo che però ormai sono abbastanza stabili nel dimostrare come la tendenza a ruminare prolunghi e intensifichi l'umore depresso alimenta la tendenza ad evitare perché io rumino per capire qualcosa in realtà non riesco con la ruminazione a capire anzi le cose sono peggiore quindi l'unica alternativa diventa evitare le situazioni danneggia le mie capacità di problem soldi incompleto perché non sono focalizzato sul problema da risolvere sono focalizzato sul massacrare il mio stato interno cercare di comprenderlo fortifica una serie di distorsioni cognitive ciò mi porta a pensare delle cose continuamente distorte per esempio sul mio valore personale riduce la motivazione al cambiamento danneggia le relazioni interpersonali e naturalmente le mie prestazioni perché è un'attività mentale faticosa e quindi è difficile farla contemporaneamente svolgere altri compiti cognitivi sua sorella versante rabbioso la ruminazione rabbiosa è definita come uno stile di pensiero ricorrente negativo che si concentra su eventi che inducono rabbia e che hanno un particolare significato personale la definizione canonica ha a che fare con il rifiuto con l'offesa con l'ingiustizia con la provocazione sociale quindi una tendenza anziché più che più che a comprendere analizzare e ad autocriticarci per uno stato emotivo è esattamente il movimento cognitivo speculare cioè io mi muovo per cercare di comprendere analizzare e criticare ciò che ha attivato lo stimolo emotigeno cioè lo stimolo emotigeno che ha attivato questo stato interno per esempio di frustrazione di tristezza e di dolore e cerco anche di pensare pensare a come posso operare nella realtà in antagonismo contro ciò che è attivato contro lo stimolo emotigeno per evitare che ciò succeda nuovamente quindi componenti e le caratteristiche della ruminazione rabbiosa riguardano la rievocazione di esperienze passate riguardano l'attenzione rivolta a situazioni presenti alle proprie emozioni a ciò che è accaduto di negativo in termini di rifiuto di offesa un tentativo di comprensione di ciò che ha portato all'evento frustrante per me e anche un'elaborazione di ipotetici scenari di risoluzione o vendetta qui stiamo parlando ancora di scenari pensati non agiti anche la ruminazione rabbiosa abbiamo un po' meno dati perché è stata studiata più recentemente ma sappiamo che la tendenza a pensare rabbiosamente prolunga e intensifica l'esperienza di rabbia ritarda i tempi di ritorno alla baseline del sistema cardiovascolare ed endocrino a seguito di un'attivazione emotiva e qui stiamo dicendo che colpisce direttamente il processo di disregolazione tutti noi se siamo molto presi da qualcosa di rabbioso e cominciamo a ruminarci sopra o a immaginarcelo possiamo sentire il nostro cuore che inizia a battere più forte possiamo sentire che possiamo indurci uno stato di accensione emotiva può riattivare la medesima reazione cardiovascolare a un evento corso diverso tempo prima quindi noi possiamo addirittura attraverso la ruminazione metterci nella stessa condizione in cui eravamo quando l'evento è capitato anche a distanza di giorni ma non solo nel tempo genera un fenomeno che è la cosiddetta just yesterday experience cioè se noi ruminiamo molto rabbiosamente rifronto a uno stimolo la sola presenza di quello stimolo o di stimoli simili in un momento futuro susciterà in noi in un processo quasi di incubazione o di memorizzazione o di consolidamento mnemonico di quell'esperienza lo stesso tipo di reazione come se fosse capitato ieri se noi ci ricordiamo oggi ci viene in mente un'immagine mentale di qualcosa accaduto magari mesi fa su cui però abbiamo ruminato rabbiosamente molto oggi quel ricordo ci suscita più facilmente lo stesso livello di intensità emotiva rispetto a quello che ci susceterebbe quel ricordo se allora non avessimo ruminato così tanto e poi naturalmente come tutte le forme di disregolazione emotiva genera l'anticamera di un comportamento di più disregolate quindi di agiti aggressivi quindi se noi mettiamo insieme questi due processi e diciamo che di fronte ai nostri stati emotivi che già si attivano più facilmente magari per la nostra vulnerabilità biologica tendiamo a gestirceli pensandoci su analizzandoli ruminandoli facendocene un problema criticando il fatto che ci vengono cioè sono proprio uno stupido a essere triste per questa situazione ecco se cominciamo a ragionare in questo modo in realtà apriamo la porta della disregolazione emotiva che può andare avanti anche a lungo cioè si può amplificare nel tempo o prolungare nel tempo e proprio perché la vivo così male alla fine se io non ho e qui c'è un nodo centrale la percezione di che sto rimuginando e che posso smettere di farlo allora io devo trovare altri modi per come dire interrompere questa cascata emotiva che si prolunga e si intensifica nel tempo per cui i comportamenti impulsivi sono di fatto concettualizzabili anche in questo modo comportamenti difficili da controllare che risultano in un danno per il benessere del paziente per il suo funzionamento prestazionale interpersonale ma sono anche spesso l'unico modo attraverso cui le persone sentono di poter governare una cascata emotiva di uscire e di interrompere la cascata emotiva e quindi c'è del buono in questi comportamenti c'è del buono passatemi il termine naturalmente tra le virgolette però l'idea che mi permettano di trasformare il mio stato interno di portare via le droghe le sostanze l'alcol mi seda mi impedisce di rimuginare no? e quindi ubriacarsi è apparentemente un modo che mi permette di staccare la testa e staccando la testa apparentemente favorisce il processo di autoregolazione ma così la rabbia lo sfogo la scarica di energia seguire l'impulso mettersi oppure l'adrenalina mettersi in condizioni di rischio i comportamenti rischiosi oppure una serie di altre attività compulsive per esempio la promiscuità sessuale tutti i comportamenti che suscitano e attivano anche degli stati interni in qualche modo contrastanti con quello che io provo in quel momento e soprattutto che catturano la mia attenzione a forza così forti da catturare la mia attenzione da interrompere un rimuginio che io non so interrompere in altro modo e questo è il modello della famosa cascata emotiva sviluppato e sintetizzato da Selby e Anestis e altri collaboratori ormai sul campo da una dozzina d'anni ma che ha già ricevuto diverse prove di validazione in cui noi vediamo come il problema della disregolazione sia un problema d'innesco di un circolo vizioso autoalimentante in cui abbiamo stimoli emotigeni presenti che incontrano una particolare sensibilità e quindi questo ovviamente favorisce la frequenza l'intensità degli episodi di disregolazione e un apprendimento di strategie di risposta alla nostra sensibilità emotiva di tipo ruminativo che hanno come effetto quello di amplificare e prolungare il nostro stato emotivo fino a quando il comportamento disregolato o impulsivo non diventa l'esito nella percezione soggettiva inevitabile per uscire da quel circolo vizioso o anche per anticiparlo perché è chiaro che spesso noi oggi o nel tempo arriviamo a vedere il comportamento impulsivo e quindi le persone diventano o i pazienti possono essere anche scarsamente consapevoli della tendenza a ruminare perché hanno sono così abituati a una routine impulsiva che ogni attivazione emotiva viene subito che ogni cascata emotiva viene subito interrotta da un comportamento impulsivo o nel minor tempo possibile quantomeno però questo non significa che questo circuito non sia presente per esempio la persona non riesce a mettere non ha accesso alla sostanza psicoattiva nell'immediato quindi c'è uno stacco all'esterno che impedisce il comportamento disregolato lì emerge la ruminazione come passa il tempo da qua là oppure nei tentativi in cui che le persone fanno di mantenere controllo di sé perché il tema dell'impulsività a volte è difficile da concettualizzare perché è vero che alcuni comportamenti sono impulsivi è anche vero che per il comportamento impulsivo che io metto in atto adesso quanti impulsi ho controllato nel corso della giornata allora se ne ho dovuti controllare 20 ed esplodo al ventunesimo non è poi detto che se riesco a identificarli tutto alla fine della fiera io risulti un essere impulsivo ma se all'esterno quelli che ho controllato non si vedono e si vede solo quello che non controllo allora potrei definirli impulsivo capito il problema per questo l'impulsività è un punto di domanda perché c'è anche un altro tema che io in molte situazioni posso provare a stare dentro un circolo vizioso senza mettere in atto un comportamento tampone perché magari voglio evitare di litigare non voglio creare problemi o c'è qualcosa in paglio non voglio rischiare il licenziamento per esempio o sto cercando di smettere allora a quel punto che cosa succede però che se la mia risposta è comunque ruminativa e l'alternativa al comportamento disregolato è aumentare il controllo è come se io mi mettessi in una sorta di pentola a pressione cioè da un lato sono sensibile dall'altro e quindi in qualche misura c'è il fornello acceso rumino quindi continuo a dare su fuoco al fornello ma dall'altra parte cerco di tamponare l'unico esito che percepisco perché spegnere il fuoco del fornello e cioè smettere di ruminare non è qualcosa che sono in grado di attuare allora stare in una pentola a pressione magari mi fa avere un successo in termini di controllo ora sull'episodio X però è molto faticoso consuma un sacco di risorse è una vittoria temporanea allora se io vinco la pentola a pressione alle 12 vinco la pentola a pressione alle 2 vinco la pentola a pressione alle 4 e mezza di sera arrivo a casa alle 20 mi viene detta una parola sbagliata ma attivo e parto ok sono stato impulsivo indubbiamente però è importante che io capisca che quell'impulsività di adesso può anche essere figlia del modo in cui io ho cercato di fare conti con le mie emotività della giornata e sono stati conti fatti di ruminazione tentativo di soppressione quindi pentola a pressione la vera sfida è c'è la possibilità di lasciare che questa emotional sensitivity si regoli da sola solcando l'onda riducendo e il fornello quanto noi diamo sul fornello senza rendercene conto e il tappo quindi uscendo dal tema della pentola a pressione adesso ho detto un po' ah poi un'ultima cosa ovviamente quando io poi metto in atto comportamenti disregolati che cosa succede che ci sono delle emozioni spiacevole aggiuntive perché questi comportamenti poi hanno un costo finisco per provare colpa per provare vergogna gli altri si arrabbiano con me mi sento inadeguato il mondo mi presenta un costo e tutto questo diventa un nuovo stimolo emozionale che alimenta successive cascate o favorisce la frequenza di successive cascate quindi ci sono degli stimoli emotigeni normalmente rifiuto fallimento sentirsi abbandonati separati distanti la sensazione di incertezza qua parlo soprattutto dei border ma non solo anche il non riuscire a decifrare ieri ho seguito una lezione del professor Maffei che ci presentava dei dati molto interessanti su come una delle grosse reattività emotive avvenga quando come vi dicevo prima il paziente con disturbo borderline di personalità si trova di fronte a una faccia neutra una fraccia che non sa è molto meglio una faccia arrabbiata con noi e questo già spiega molte cose da un certo punto di vista che è una faccia che non so che cosa mi sta dicendo che mi stimola uno stato di incertezza che mi fa paura su cui rimugino comincio a preoccuparmi immaginarmi che cos'è che può avere a chiedergli e l'altro si spazientisce allora il fatto che si spazientisce significa che vedi c'è qualcosa che non va e via 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 dicendo fino alla cascata emotiva quindi questo modello in buona in definitiva è un buon modello per costruire per considerare quanto meno di porre come target di un intervento psicoterapeutico o di un modulo di intervento psicoterapeutico per questi pazienti la tendenza a ruminare sui propri stati interni e su quello che succede come via per ridurre la cascata emotiva perché questo modello ha la capacità di spiegare in buona parte la maggiore intensità anche a fronte di stimoli minori il lento ritorno all'attivazione di base e il processo che conduce al comportamento disregolato quindi è un modello esplicativo molto interessante che ci permette di comprendere al di là del fatto che molti di questi aspetti possano rappresentare anche una vulnerabilità biologica come il processo evolutivo dell'individuo anche vulnerabile arriva a trasformare questa vulnerabilità in un problema di disregolazione emotiva e uno dei modi in cui arriva è sviluppando strategie di ruminazione e attacco al proprio stato interno e di tentativo di soppressione dello stesso quindi il processo ruminativo spiega perché strategie distraenti più semplici non sono sufficienti distrattori per certi pazienti cosa che accade invece per le persone che non hanno questo problema perché la ruminazione tiene il fuoco acceso spiega perché a volte anche delle forme di distrazione fisica tipo una buona doccia non hanno un impatto ed occorre che il comportamento disregolato sia disregolato in modo potente e prolungato perché abbia un effetto perché il comportamento disregolato deve portare via la mente da un'attenzione estremamente focalizzata e forte sui propri stati interni il dolore fisico è un esempio di qualcosa che ci può portare via in buona sostanza è molto più facile continuare a ruminare mentre si è sotto una doccia che mentre si sta facendo esperienza di dolore fisico ora che cosa sostiene la ruminazione nel tempo un'abitudine questa è la risposta se vogliamo più immediata che ci viene in mente e in parte anche vera alcuni studi recenti hanno mostrato che alcune delle motivazioni o delle idee che possono sostenere la ruminazione è anche lo scopo in questo senso metacognitivo che io ho nel momento in cui mi trovo a fronteggiare uno stato emotivo cos'è la metacognizione banalmente è come io cosa io penso dei miei delle mie esperienze interne e delle strategie atte a regolarvi per cui se io penso che uno stato emotivo sia pericoloso e debba essere soppresso io posso sopprimerlo mettendo in atto un certo comportamento questo è uno scopo o una strategia metacognitiva fondamentalmente autoregolatoria se io penso che devo capire perché provo certe emozioni al fine di non provarle più io ho una convinzione che sostiene un processo ruminativo ed è una convinzione metacognitiva che riguarda i miei stati interni allora noi sappiamo che avere queste convinzioni o sviluppare queste idee è un impatto su quanto ruminiamo è anche vero che molto spesso le persone sono così convinte che la ruminazione sia l'unica strada se non la più utile che spesso non si rendono neanche conto di mettere in atto un processo ruminativo quando arrivano in terapia spesso la ruminazione non è neanche riconosciuta non è vista affatto se anche vista se anche possono dire sì penso molto ci penso molto viene percepita come una come dire una caratteristica biologica sono fatto così non posso fare altrimenti è segno che il mio cervello funziona in questo modo oppure come parte della soluzione non come parte del problema cioè effettivamente mi serve vede necessaria per non finire per essere uno stupido perché se io smetto di rimuginare significa lasciare che io sia un debole non provare neanche a cambiare questa mia debolezza intrinseca e ci sono diverse convinzioni che nel corso degli ultimi anni hanno mostrato avere un peso significativo nel sostenere la ruminazione le ruminazioni potremmo dire alcune sono positive nel senso che positive per modo di dire nel senso che attivano e sostengono motivano alla ruminazione serve per farsi valere per non essere vittima degli altri per sentirsi a posto con se stessi quindi per non lasciare che come dire aver combinato un caos senza preoccuparsene senza punirsi per sentirmi al sicuro per mantenere il controllo perché ho l'idea che se non rumino l'emozione mi porterà fuori controllo a perdere il controllo di me stesso per non essere soprafatto dagli altri per trovare il bandolo della matassa capire come risolvere il problema e poi ci sono credenze metacognitive negative che di solito hanno un impatto nell'implementare incrementare sostenere amplificare il ruolo della ruminazione le emozioni e i pensieri sono pericolosi non riesco a smettere di pensarci mi porta fuori controllo la mia mente difettosa quindi in buona sostanza cosa stiamo dicendo stiamo dicendo che durante il processo evolutivo recupero quello che dicevo prima durante il processo evolutivo io ho delle esperienze che mi insegnano che le mie emozioni hanno dei significati negativi non sono valide non vanno bene quando emergono dovrei fare qualcosa per arginarle gestirle sopprimerle o risolverle conseguentemente significa che io nel mio processo evolutivo le esperienze di invalidazione dell'ambiente invalidante insegnano al bambino qualcosa riguardo il rapporto con la propria mente insegnano che i propri stati interni sono problematici gli insegnano che stati interni sono collegati al valore personale gli insegnano che se manifestano questi stati interni allora il mondo li danneggerà quindi imparano che qualcosa che è naturale e altamente regolabile diventa in realtà pericoloso e dal momento che il tentativo di risolvere le nostre emozioni non è possibile perché siamo degli esseri viventi e quindi arrivare al punto in cui io ho le emozioni che dovrei avere non è possibile e instradiamo il ragazzo il bambino in un processo di apprendimento che è inevitabilmente condannato al sentirsi impotente e in scarso controllo rispetto alla propria mente perché perché lo scopo prioritario è dovrei avere certe emozioni non averne altre averne solo alcune non averle in questo momento mi sforzo per cercare di arginarle in autonomia con i miei processi di analisi di riflessione di illuminazione che non solo non servono a questo scopo perché questo scopo è irraggiungibile e realizzabile ma creano ulteriori danni quindi ne conseguirà che io non ho potere su di me quando il punto è che il potere su di me è indipendente da ciò che mi accade dentro che sopprimere avere o non avere emozioni o averle nel momento sbagliato non è connesso al potere che ho su di me alla mia capacità di controllo e nemmeno al mio valore di persona perché il mio valore semmai se proprio dovremmo dire qualcosa lo fa che cosa scelgo di fare no e indipendentemente dalle emozioni che provo quindi in questa logica alcune forme di terapia hanno provato a vedere o a valutare se un intervento volto a ridurre la ruminazione potesse essere amplificato da processi che permettono di cambiare e mutare cosa le persone pensano di ciò che accade dentro la propria mente ciò che le persone pensano di cosa sia la mente di come funziona la mente di quali strategie servono per regolare la mente dei significati di avere certi pensieri o certe emozioni che compaiono certi ricordi che compaiono all'interno della mente e per vedere se questa la modifica a questo livello che noi definiamo metacognitivo possa aiutare la riduzione del processo ruminativo e quindi di trovare un altro modo di fronte alla sensibilità emotiva di gestire e modulare la nostra risposta a fronte ad essa che non porti a una cascata emotiva sia direttamente amplificandola sia indirettamente attraverso quella lotta a pentola a pressione non mi chiama non mi ama angoscia non mi chiama per tipo due ore ruminarci sopra mi aiuta a gestire questo dolore non riesco a smettere le emozioni mi distruggono stalking comportamento di ipercontrollo oppure uscita nella sbronza questo è un esempio concreto di come questo modellino potrebbe leggere un singolo episodio le linee terapeutiche che partono da questo presupposto che tra l'altro stanno sono in fase di sperimentazione di sviluppo proprio all'interno del programma del del CIP delle cliniche italiane di psicoterapia di Modena si riconduce al modello metacognitivo sviluppato da Adrian Wells applicato con successo nell'ambito del trattamento dei disturbi d'ansia e dell'umore ha sostanzialmente queste linee terapeutiche primo riconoscere la ruminazione mentale perché non è detto come dicevamo poc'anzi che possa essere riconosciuta dalla persona che la attua cioè rendersi conto di innanzitutto di che cos'è rendersi conto di quando ci sono immerso e provare a esplorare alternative di riduzione rinvio abbandono della ruminazione questo esistono poi delle tecniche specifiche su cui adesso non mi addentro che hanno questa funzione aiutare le persone a scoprire quali sono modi diversi di reagire ai propri stati interni disturbanti sia in termini di emozioni che in termini di pensieri senza iniziare ad occuparsene mentalmente lasciando che l'onda è attraversi implicitamente potremmo dire anche accettando perché no però di fatto continuando la propria vita lasciando che l'onda emotiva faccia il suo corso per quello che è senza averne timore questo allenamento aiuta a imparare nuove informazioni sulla mente per esempio il fatto che le emozioni vanno distorgono la nostra visione arrivano distorcono la nostra visione ma se ne vanno da sole e quindi per noi è importante sapere che sono innocue per quanto spiacevoli che se le lasciano in pace tendono a regolarsi in autonomia anche se ci vorrà un po' di tempo e soprattutto che mentre siamo sul picco dell'onda quello che noi pensiamo di noi stessi e della realtà non è detto che sia affidabile e che quindi tutti questi ragionamenti se proprio li vogliamo fare li dobbiamo fare quando l'onda è passata perché in quel momento se ci sentiamo uno schifo probabilmente è quell'emozione che ci dà questa percezione non è il dato di fatto e quindi vuol dire anche un po' riconoscere che cosa sono le emozioni le informazioni sulle proprie emozioni ma anche avere una distanza critica da quello che pensiamo insomma tutte queste conseguenze fanno parte delle linee terapeutiche vivere emozioni e pensieri come esperienze transitorie non come fatti non parlano di fatti sono informazioni spesso distorte che derivano dalla nostra storia che possono essere considerate perché dicono qualcosa delle nostre preferenze ma che non sono la realtà dei fatti potrebbero essere giustificate dai fatti potrebbe anche darsi di no e noi non lo possiamo discriminare in modo chiaro mentre siamo sull'onda sviluppare nuove strategie di risposta agli stati motivi problematici la terapia metacognitiva fa un po' questo ci sono dei training implica una serie di strumenti che permettono di allenare la propria capacità di spostare l'attenzione tenendo il proprio stato emotivo ma portare l'attenzione altrove anche senza bisogno di avere delle forti stimolazioni come quelle dei comportamenti disregolati lo sviluppo di una consapevolezza di staccata rispetto ai propri stati interni insomma esiste un protocollo una serie di interventi che sono stati anche applicati in contesti gruppali e con molto successo nell'area dei disturbi d'ansia e dell'umore e che oggi iniziano a essere applicati anche nel mondo dei disturbi di personalità questo in sintesi è quello che si cerca di fare disingaggiarsi dalla ruminazione dagli stati emotivi intensi rifocalizzare la propria attenzione su ciò che accade fuori da noi quindi riguardare il mondo esterno uscire dalla propria testa lasciando che la nostra mente il nostro corpo si muovano per trovare una nuova omeostasi sapere che in qualche modo il sasso è accaduto nel lago si sono formate le increspature adesso cercare di vedere noi stessi oltre il pelo dell'acqua per capire meglio le cose mentre ci sono le increspature è molto più faticoso e solitamente controproducente conviene stare sul bordo del lago guardarsi intorno aspettare che passino le increspature quando le increspature saranno passate noi riusciremo a vedere meglio attraverso l'acqua la terapia metacognitiva questa la cito ha oramai una buona base di evidenza empirica ci sono due metanalisi ora metanalisi sono raccolte di studi che mettono assieme tutti i dati di verifica empirica di un modello terapeutico questi dati ci dicono che è molto efficace è molto promettente i dati ovviamente non sono ancora a livello numerico tanti quanto possono avere modelli più storicamente determinati come la cognitivo comportamentale o come la dbt per esempio però sono dati promettenti che aprono degli spiragli interessanti di sviluppo molto solidi nell'area dell'ansia e della depressione con qualche preliminare risultato anche in casi che noi diremmo molto complessi ma che in qualche modo hanno a che fare col tema dei disturbi della personalità questo è uno studio su pazienti con disturbo borderline della personalità che mostra la significativa riduzione dopo l'inizio del trattamento e anche fino a un follow up di due anni un trattamento durato un anno in questi casi sia in termini di ansia e depressione nel grafico di sinistra che in termini di pensieri suicidari e comportamenti autolesivi nel grafico di destra e io ho finito direi in tempo per qualche domanda come è andata? Sì diciamo che siamo in tempo anche per domande appunto grazie Gabriele chiarissimo e mi collego in attesa che arrivino domande proprio sul nostro intento del centro appunto per i disturbi di personalità che coniugano un po' quanto anche ha detto fino ad ora il dottor Caselli nel senso che seguiamo il modello della Marsha Linean quindi proponiamo gruppi sulla regolazione emotiva sulla gestione dei comportamenti più impulsivi o disfunzionali sul migliorare le relazioni interpersonali altra area in cui la disregolazione emotiva colpisce e ci concentriamo proprio su due gruppi a settimana proprio sulla gestione riconoscimento e gestione proprio della ruminazione e del rimuginio seguendo appunto i modelli di WERS e quello di gruppo di Nordal appunto allora leggo alcune domande Gabriele che ti arrivano chiedono ad esempio se la mindfulness può essere utile nell'affrontare i problemi legati alla ruminazione il protocollo mindfulness le leggi poi rispondo sì ah vuoi tutte no no dimmi come preferiti vai tre leggo una alla volta dai allora mindfulness beh la mindfulness è nata per questo cioè o meglio non la mindfulness in generale come pratica ma gli approcci soprattutto l'MBCT per l'area della depressione la ruminazione depressiva è stata molto studiata nel panorama depressivo e la mindfulness è uno degli approcci che mira ad andare in questa direzione come molti degli approcci processualisti di nuova generazione cercano di operare riducendo il processo ruminativo quindi questo assolutamente diciamo che molti approcci cioè un conto è considerare la ruminazione al centro uno dei problemi target e un conto è qual è il modo migliore per fronteggiarla e sul modo migliore per fronteggiarla ci sono diversi approcci tra cui anche quelli centrati su mindfulness sulla meditazione mindfulness ok dicono chiarissimo webinar stupendo poi c'è un'altra domanda se ruminazione mentale scusa e ossessioni pure quale può essere il confine il confine per discriminarle immagino si riferisca beh è chiaro che quando parliamo di costrutti cognitivi si mescolano sempre nell'esperienza soggettiva da un punto di vista tecnico la distinzione sarebbe più netta le ossessioni rappresentano delle intrusioni mentali cioè cosa mi viene in mente di fastidioso le intrusioni mentali sono la controparte se vogliamo neutrale normale non problematica le ossessioni sono peculiari intrusioni mentali a cui io attribuisco un significato di inaccettabilità o di dolore o un particolare significato legato per esempio al fatto che potrebbero avere rappresentare o anticipare qualcosa che può capitare in futuro o qualcosa che sta succedendo adesso quindi possono presentarsi con un forte morso emozionale in termini di paura disgusto colpa ma sono in linea di massima delle intrusioni immagini mentali pensieri improvvisi automatici che compaiono nella mia mente la ruminazione mentale ha a che fare con come io reagisco a queste intrusioni quindi io posso ruminare sulle mie ossessioni sul fatto che vengono cercare di capire come mai come sopprimerle come averne a che fare quindi la ruminazione è una risposta l'ossessione è una esperienza cognitiva da un certo punto di vista chiedono un po' se ci sono stati magari persone che non si sono approcciate in modo molto produttivo come tua esperienza sia alla mindfulness o al rilassamento se non hanno ben però se non hanno ben ci sono sì ho letto ho letto la domanda ci sono anche delle modalità di intervenire sulla ruminazione che non sempre hanno a che fare col processo meditativo cioè il punto è innanzitutto capire qual è la questione spesso rilassamento progressivo la mindfulness hanno un senso di abbandono che alcuni pazienti può destabilizzare allora in quel caso ci sono delle tecniche anche di mindfulness o di detached mindfulness o di varianti sul tema che permettono di vecchiolare la stessa esperienza senza creare per esempio tutti quegli aspetti legati agli occhi chiusi alla focalizzazione corporea che potrebbero essere di primo acchito un po' spaventanti e poi si può partire con un livello di distacco maggiore cioè lavorando molto sull'aspetto più psicoeducativo del come mai si arriva a questo perché spesso è un tema anche di eccessiva precocità o non spiegazione del razionale il motivo che spaventa però insomma dipende molto da caso a caso ma esistono anche delle tecniche meno immersive della meditazione o del rilassamento progressivo per fronteggiare la ruminazione ok poi chiedono se la desigualazione emotiva ha sempre basi biologiche oppure può essere sviluppata anche appunto dall'ambiente invalidante come un po' avevi accennato all'inizio probabilmente entrambi gli aspetti cioè la vulnerabilità biologica è sicuramente un elemento che favorisce che predispone però io posso avere disregolazione emotiva anche senza avere troppa vulnerabilità biologica e posso avere anche una vulnerabilità biologica senza sviluppare una disregolazione emotiva l'abbiamo presa ah volevo rispondere a al ale sì è molto importante quello che quello che sottolinea c'è il grosso rischio di consigliare di non prendere in considerazione i propri stati emotivi non porta ulteriormente a nasconderli questo è un punto molto importante perché questo è spesso quello che quello che fanno non è tanto non prendere in considerazione i propri stati emotivi che è l'altra faccia della stessa medaglia il punto semmai è prendere in considerazione i propri stati emotivi per ciò che sono dei segnali informativi automatici che ci servono per considerare un pezzo di informazioni cioè come noi naturalmente reagiamo alle cose però il punto è che giustamente i nostri stati emotivi soprattutto quando sono intensi prioritizzano certe informazioni distorcono la nostra visione quindi il punto non è non considerare che ci sentiamo tristi il punto è sapere che la visione che noi abbiamo di noi e dei fatti quando siamo profondamente depressi non è detto che sia affidabile per una lettura lucida della realtà il che non significa che la nostra depressione non vada considerata o la nostra tristezza non vada bene va messa nel computo delle informazioni e noi possiamo metterla nel computo delle informazioni meglio domani quando quest'onda sarà passata riguardando all'episodio sapendo che questa che certe cose ci rendono tristi ma non è detto che le cose che ci rendono tristi significa che noi non valiamo come persone penso per esempio al rifiuto un insulto una critica cioè il giorno dopo che possiamo dire vabbè quella critica mi ha reso molto triste mi ha ferito molto però è anche vero che essere criticati succede nella vita e non ha niente a che fare con quanto valgo come persona vanno sintetizzando un po' il costrutto ecco chiedono se puoi fare un esempio di una tecnica per interrompere il rimuginio beh ce ne sono diverse a parte la mindfulness ma direi che il punto di partenza cioè una tecnica per interrompere il rimuginio ha senso nel momento innanzitutto io adesso qui ho in testa i disturbi di personalità ha senso innanzitutto se io so riconoscere quando rumino quindi in realtà il primo passaggio è spiegare la ruminazione e aiutare le persone a riconoscere quando ruminano rispetto a quando non ruminano e non è così scontato questo passaggio cioè accorgermi di stare ruminando poi l'esempio l'esercizio più banale che insegno sempre è cominciare a rinviarlo mettiti in agenda uno spazio in cui ti occupi dei tuoi problemi e cerca di rinviare così se in qualche modo ti imponi di lavorare sul riconoscere se stai rimuginando ma comunque è uno spazio per farlo dilazionato nel tempo in cui probabilmente sarai facilitato per il fatto che se è andata bene l'onda emotiva potrebbe essersi nel frattempo già regolata quindi avrai anche il vantaggio di rimuginarci in modo più lucido ok puoi chiedere una specifica se il rimorso può essere correlato alla ruminazione anche lì il rimorso poi entriamo tutto nel quadro emotivo del fiore con tutte le milioni di emozioni e spazio diciamo che sì il punto non è tanto il rimorso in sé ma quanto poi il rimorso mi disturba cioè nell'idea appropriata se io provo colpa rimorso quant'altro mi domando se sto male e vabbè accetto che sto male e posso pensare semmai se mettere in atto una delle azioni per cui queste emozioni esistono la colpa porta al rimedio a chiedere scusa quindi se posso barra voglio andare in questa direzione o cercare di recuperare qualcosa che mi sono accorto di aver fatto male a perdere e quindi a riparare un comportamento lo metto in atto e vado a farlo e le emozioni servono anche a questo a considerare questa opzione il tema della ruminazione è quell'elemento che di fronte per esempio al rimorso rende questa emozione prolungata nel tempo indipendentemente dall'azione che io scelgo di fare quindi è come se lo trasformasse in una ciste da un certo punto di vista può essere legato a ogni stato interno direi che abbiamo che hai risposto ampiamente tutte le questioni stavo vedendo se c'erano altre che abbiamo saltato ma direi di no ok va bene direi che possiamo dire che chi volesse risentire la registrazione sarà presente sul canale youtube di State of Mind e per qualsiasi cosa avete i nostri riferimenti ti manderemo poi nelle mail che avete utilizzato nell'iscrizione tutti i riferimenti del nostro centro e per qualsiasi altra precisazione o domande non esitate vi risponderemo anche via mail quindi grazie al dottor Caselli grazie a voi e ringrazio tutti per l'attenzione buon weekend buon weekend a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti